Univano l'attività di traffico di droga a quella di estorsione nei confronti di chi non riusciva o tardava a pagare la fornitura. Un'organizzazione criminale specializzata in queste attività è stata sgominata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Siena, 14 ordinanze di custodia cautelare, 9 delle quali in carcere e 5 agli arresti domiciliari. Il gruppo gestiva un traffico di cocaina dalla Campania alla Toscana. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal GIP di Siena su richiesta della procura senese ed eseguiti dai carabinieri nelle province di Napoli, Siena, Firenze e anche ad Arezzo. Proprio in provincia di Arezzo due le persone arrestate, si tratta di un 44enne di Buccine e di un 67enne di Subbiano. Entrambi da consumatori erano diventati spacciatori, tanto che al 67enne sono state trovate ben 10 dosi di stupefacenti in tasca. Le indagini sono durate circa un anno e hanno permesso di individuare il canale di approvvigionamento della cocaina che dalla provincia di Napoli arrivava in Toscana attraverso una rete di spacciatori. Nelle indagini sono emerse una serie di estorsioni con minacce gravi e metodi violenti nei confronti di alcuni piccoli imprenditori che non riuscivano a pagare i debiti per l'acquisto della droga. Tra gli arrestati c'è anche Virginio Zedde, un fantino del Palio di Siena. C'è anche un ricercato tra i 14 destinatari delle ordinanze di custodia cautelare. Lo si sta cercando in tutta Italia e non si esclude che possa essere anche all'estero. Ci sono altri 20 indagati in Toscana, soprattutto in provincia di Siena e Grosseto, per detenzione e spaccio.